La musica è un contenitore di emozioni, la fisarmonica è uno dei pochissimi strumenti che noi abbracciamo. Suonare e comporre sono due elementi alchemici estremamente forti. Possiamo generare, creare pathos con il silenzio o sussurrando. Questo mi ha permesso di vivere intensamente la ricerca del suono fine a se stesso. Il Made in Italy Sound, che sempre più mi porta all'estero, è una visione dell'arte delle sette note italiane a 360 gradi. Avere un pubblico eterogeneo è una grande fortuna. Significa che c'è un messaggio universale che può toccare tutti. Di conseguenza quello che compongo, quello che scrivo e quello che eseguo ha la caratteristica di essere molto fruibile. Buona musica! Ciao!